Ciao a tutti carissimi utenti e bentornati al mio canale. Allora, oggi parleremo di un argomento che è anche esso interessante e soprattutto sicuramente molti di voi avete già, insomma, vi siete imbattuti su questo argomento, che è un problema alla fine. Allora, parliamo oggi per ente di hard disk, però in tesi come memoria, ovviamente parleremo soprattutto nei notebook, il problema sussiste, ma ovviamente montando questo tipo di hard disk, ed è precisamente l'M2, si può trovare anche, abbiamo detto, nei computer desktop, però di più il problema ovviamente lo troviamo nei notebook. Allora, cosa può comportare acquistare un notebook, o abbiamo detto un PC fisso, che abbia all'interno l'M2 come hard disk? Intanto abbiamo già parlato in passato in alcuni video di differenza fra vari hard disk e soprattutto vi consiglio qua ad andare a comprare. Quindi comunque per capire bene di cosa stiamo parlando vi consiglio di andare a vedere quel video. Ovviamente gli hard disk in base alla velocità vengono classificati in hard disk meccanici, quindi praticamente sono i classici mattoncini hard disk, insomma, che funzionano meccanicamente, con la classica bacchettina all'interno e con i dischetti. Ovviamente questi hard disk ormai sono obsoleti e vanno parecchio lento, anche se li acquistiamo, diciamo, al giorno d'oggi, nel 2024. Si possono dividere, insomma, in 7200 RPM, gira al minuto, in 5000 e oltre. In base alla velocità uno va a scelare l'hard disk, però, come potete dire, questi hard disk, già che sono obsoleti, non li utilizza più nessuno. Quindi la gente passa, e soprattutto ormai i computer che escono oggi, già sono dotati di almeno SSD. Quindi, hard disk allo stato solito, quindi dove manca proprio tutta quella parte meccanica, il che permette di far andare veramente in maniera veloce l'hard disk stesso, quindi a sua volta il nostro computer, dato che l'hard disk elabora i dati che diciamo noi, e quindi soprattutto la velocità in lettura e in scrittura, già negli SSD, è molto veloce rispetto a un hard disk meccanico, proprio perché negli SSD, abbiamo detto, allo stato solido, manca ovviamente la meccanica. Però, oltre all'SSD, io vi ho detto che c'era un altro tipo sempre di SSD, viene chiamato, che però è molto, ma molto più veloce, addirittura anche di 10 punti in più, quindi già immaginate quanto potrebbe essere veloce l'M2. L'M2 è sempre un SSD, però a forma, praticamente un pochettino, può essere paragonato a una RAM, un pochettino più lunga della RAM, e viene, diciamo, collegata a delle schede madri, quindi che abbiano comunque l'alloggio per M2. Non possiamo attaccarlo con i classici cavettini SATA, per intenderci. Oppure, se parliamo di altri dischi, insomma, con i Molex e quello che sia. Quindi, intanto, io ve li consiglio questi M2. Come ben ricordate, in quel video già li consigliavo, e ve li consiglio tutt'oggi questi M2, perché sono dei SSD che alla velocità è impressionante. Il prezzo, effettivamente, è già molto più caro rispetto ad un SSD, però non è vero la pena, perché comunque sono pezzi hardware che non si vanno a comprare ogni volta. Quindi, capite bene che se con un SSD come velocità in scrittura e lettura potremmo avere un 555, un 520, già se prendiamo un M2 possiamo arrivare anche a oltre 9000 di velocità, sia in lettura che in scrittura. Quindi, veramente, è una velocità assurda per chi monta, diciamo, e per chi ha la fortuna di acquistare già un computer con M2 all'interno. Quindi, comunque, ve lo consiglio. Però, come vi consiglio di acquistare un notebook con PC con M2 all'interno? Vi consiglio sempre di acquistarlo già con sistema operativo al suo interno. Questo perché? E qui ci rifacciamo al problema di quando ho aperto io il video. Quindi, il problema iniziale è che possono avere questi M2. Molte volte, spesso delle volte, questi M2 hanno la mancanza di driver, quindi non vengono, essendo che vengono installati direttamente nella scheda madre, hanno bisogno di driver, praticamente, per farsi riconoscere direttamente nel BIOS. Magari stiamo parlando un pochettino in maniera tecnica, però non ho altri vocaboli da andare a utilizzare, se non quelli propri tecnici. Quindi, comunque, se possiamo semplificare il più possibile, voi non vedete praticamente il vostro hard disk, per intenderci. Parlo di hard disk, ma stiamo parlando di M2. Quindi, per intenderci, non vedrete, vai nella lista, il vostro M2. Questo quando succede? Quando proprio manca il sistema operativo, perché se voi già acquistate un PC fisso, un notebook, con sistema operativo originale all'interno, e non, quindi, free DOS, quindi libero, senza sistema operativo, quindi che noi dobbiamo andarlo a montare, praticamente, lì, nel computer già con sistema operativo, il problema non si assiste, il computer vi partirà, vi leggerà l'hard disk, e sarete veramente, veramente contenti dell'acquisto che avete fatto, perché vi ho detto le velocità che riesce ad avere un M2, quindi un SSD, un M2. Se invece decidete, per motivi anche di prezzo, e molte volte è questo, che veramente frega, fra virgolette, i clienti, frega, insomma, e confonde un pochettino, più che fregare la clientela, gli utenti, quello che siano, le persone in generale, è di andare a risparmiare qualche cosetta, a livello anche di 250 euro, quello che sia, e prendere un FreeDOS, che abbia però al suo interno l'M2 come SSD, quindi FreeDOS, abbiamo detto, e significa senza sistema operativo, quindi un computer libero, che quando lo accendete non partirà il sistema operativo, perché siamo noi ad andare a comprare un sistema operativo, quello che più piace, insomma, dal 10, 11, Pro, la Home, quello che sia, e decidere di andarlo a installare. Cosa succede? Sicuramente chi già, sicuramente state vedendo questo video per la prima volta, comunque sicuramente ci saranno molte persone già, saranno cadute in questo problemino. Sicuramente non avete problemi a inizializzare il vostro computer, perché non troverà proprio l'M2, quindi non troverà l'ARMIS, questo perché mancano dei driver, quindi non ci sarà nessun modo, nessun verso di far leggere, per chi non ha dimestichezza nell'informatica, e qua purtroppo avete bisogno sicuramente di un informatico, però comunque io vi do la cura, insomma, ad andare ad attuare, per tentare voi prima di portarlo da un informatico, e comunque si prenderà una cifra che non sarà magari né altissima, né meno economica, perché consisterà oltre alla formattazione qualche lavoretto in più da fare su un computer nuovo. Quindi in questo caso, cosa succede quando voi vi trovate in mano un notebook, oppure lo volete decidere acquistarlo, vi consiglio sempre, anzi ve lo sconsiglio, di acquistarlo Fridos, per evitare e ovviare a questo problema, comunque compratelo, sia con M2, sia con sistema operativo. Per chi invece già se lo trova a casa, l'ha acquistato due ore fa, un'ora fa, un giorno fa, e si trova su questo problema, praticamente in questo problema, dovete fare soltanto ad andare a trovare, reperire, di solito si scarichino sempre i driver, vengono chiamati IRSTE, quindi se voi avete acquistato un Acer, andate nel sito Acer, mettete il vostro modello, e andate sulla tabella driver. Lo stesso se avete acquistato un notebook Asus HP, andate, praticamente, nella casellina driver, e andate a cercare, fra tutta la stringa, dovete andare a cercare, il driver IRSTE, quindi per intenderci, Imola, Roma, Savona, Torino. Sono i classici driver, Intel, Rapid, Storage, Technology, quindi sarebbero questi di qua, i driver, li potete trovare, sia nella versione lunga, per intero, estesa, sia nella versione abbreviata, di solito, che sono gli IRSTE, quindi basta scaricare questo driver, per il vostro sistema operativo, quindi se avete intenzione, di andare a montare il 10, il problema si va soprattutto, sia sul 10 che su G, quindi in base alla vostra versione, del sistema operativo, quindi 10 a 32 o 64 bit, lo stesso, l'11 a 64 bit, 32, quello che sia, la vostra versione, andate a reperire, il preciso driver IRSTE, una volta scaricato questo driver, lo dovete mettere nella pendrive, quindi dovete proprio, scompattare questo driver, copiarlo, e metterlo dentro la pendrive, in questo caso, una volta che voi, dico sicuramente, chi è arrivato già, a questa parte di video, saprà già come inizializzare, e formattare un computer, per chi non lo sapesse, magari può vedere, qualche guide, su come inizializzare, un sistema operativo, o formattare un sistema, o formattare un computer, quindi installare, un nuovo sistema operativo, una volta che voi, fate partire dal boot, questo sistema operativo, probabilmente arriverà, in un punto, dove non vi troverà, completamente l'hard disk, quindi in quel caso, siete pronti per, una volta già inserite, inizialmente la chiavetta, andare a reperire, ad aggiungere, quindi a installare, questi nuovi driver, IRST, una volta che installiamo, questi driver IRST, praticamente magicamente, troverà, il vostro SSD M2, perché questo non succede, con gli SSD, quindi troverà, il vostro M2, e poi dovete soltanto, continuare a seguire, tutta la procedura, per la normale installazione, di un nuovo sistema operativo, quindi, è, diciamo, non un argomento, semplice, già questo rientra, fra gli argomenti, devo dire, medi, complicati, abbastanza complicati, perché, magari, molti utenti, si troveranno, un po' confusi, però, è un argomento, da andare a, fare, si doveva trattare, questo argomento, degli M2, perché molti di voi, magari, non sanno, perché, questo, bellissimo M2, molte volte, nei computer, soprattutto, senza il stesso operativo, non viene visualizzato, può succedere anche, che non venga visualizzato, perché, proprio, è da andare a attivare, nel BIOS, la procedura di visualizzazione, di questi M2, quindi, c'è da attivare, qualche, cosa nel BIOS, però, che non vi sto qua a dire, perché, in questo caso, quando si lavora nel BIOS, si potrebbe, diciamo, incappare, in qualche problema, che, diventa poi, ingestibile nel computer, quindi, quando dovete lavorare nel BIOS, vi consiglio sempre, di farlo controllare, a un tecnico hardware, tale di questo nome, quindi, in questo caso, dovete andare, a chiamare, e farvi aiutare, da un tecnico hardware, però, se non dovete lavorare nel BIOS, nel BIOS, comunque, quello magari vedremo, un secondo step, potete, scaricare, questi famosi driver, IRST, del vostro, notebook, quindi, della vostra marca, andando nella casa, proprio nel sito originale, scaricare questo driver, una volta che non vi compare, l'hard disk, andare a installare, tramite pendrive, e vede sicuramente, che vi comparirà, nel migliore delle ipotesi, se siete fortunati, vi comparirà, questo famosissimo, M2, dopodiché, procedete normale, con la vostra, con la sua installazione, all'installazione del sistema operativo, e vedete che il computer, andrà in maniera, veramente, veramente, spedita, e veloce, chiudo il video, dicendovi, e come ripeto, dall'inizio, per ovviare a questo problema, basta semplicemente, quando acquistate un nuovo computer, prenderle, vi consiglio già di prendere, con sistema operativo, già all'interno, quindi, evitate di prendere, per non incappare in questo, problemino, difetto di riconoscimento, di M2, di prenderli, free DOS, quindi, in sostanza, evitate di acquistare, per pagare, pochettino meno, di computer, perché poi, sicuramente, il tecnico, ve ne domanderà, tanto quanto, avete risparmiato, per ovviare a questo problema, dato che, è un precedente, un pochettino più difficoltoso, e più lungo, soprattutto, quando si deve lavorare, anche nel BIOS, spero che vi avevi fatto conoscere, questo ulteriore problema, che hanno gli M2, fra virgolette, anche se hanno problemi, vi consiglio, al 100% l'acquisto, sempre di computer, con un M2 all'interno, perché sono veramente, veramente, velocissimi, e non ve ne pentirete, però mi raccomando, sempre con sistema operativo, all'interno, già reinstallato, originale, ciao a tutti, e buon lavoro a tutti.